Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati PreSonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito ProAudioLearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ho recentemente ricevuto diverse richieste sull'aiuto su come configurare le schede audio PreSonus all'interno di Studio One. Le schede audio, come la 24C, tutte le schede USB o le Quantum che vengono fornite da PreSonus possono essere sì utilizzate attraverso il classico sistema di PreSonus Universal Control che vediamo qui. Cliccando sulla scheda infatti accediamo al monitoraggio della scheda, al sistema di controllo MIDI, la visualizzazione degli ingressi ADAT e un analizzatore di spettro estremamente utile a volte. Quello che molti non sanno è che tutte le funzioni supplementari aggiuntive della scheda vengono utilizzate attraverso il mixer di Studio One. Per cui torniamo su Studio One, selezioniamo la nostra scheda audio PreSonus, in questo caso la mia Quantum, facciamo OK e apriamo una nuova song. All'interno adesso avremo la possibilità di guardare al mixer, togliamo il browse e con la scheda collegata notiamo subito che abbiamo un nuovissimo pulsante che prima non appariva che è il Restore Audio Device Setting per poter ricontrollare che la song sia alla stessa frequenza di campionamento e quindi il progetto sia alla stessa frequenza di campionamento della scheda audio in cui è stata impostata e possiamo vedere subito gli ingressi con il pulsante input della scheda audio e le uscite della scheda audio. Queste sono due parti del mixer, nascondiamo gli instrument e il channel e quindi possiamo già capire come funzionano le schede audio PreSonus utilizzando il mixer di Studio One, ma vediamolo nel dettaglio. Carichiamo all'interno un file, ho importato all'interno dell'arrangiamento il mio brano classico, quello che fa riferimento a YouTube, avete già sentito diverse volte e ora come vediamo premendo su play il brano esce direttamente nell'uscita main out. Quindi qui abbiamo a disposizione gli input, vi ricordo di attivare sempre gli input controls dalle preferenze in maniera da poter vedere gli input controls relativi al gain e all'inversione di polarità direttamente anche sul mixer di Studio One. Chiudiamo gli input, chiudiamo gli output. Abbiamo quindi come dicevo soltanto a disposizione adesso la song, quindi con i suoi input controls con cui possiamo regolarci anche il gain. Questo influenza anche ovviamente l'uscita verso il master. Facciamo finta che abbiamo bisogno, come spesso capita di dover inviare la traccia a diverse fonti o diverse uscite della scheda audio. In questo caso già la traccia audio fa riferimento al main out in automatico. Cliccando su IOSetup vediamo già tutto il setup impostato per la scheda audio, quindi gli ingressi e le uscite della scheda audio. Se non dovesse apparire questa configurazione possiamo crearla manualmente. Avremo questo tipo di immagine. A questo punto aggiungiamo gli ingressi stereo per ogni canale della scheda audio. Qualora volessimo ingressi mono che siano riferiti soltanto ad esempio agli instruments aggiungiamo mono e quindi ce li configuriamo poi sugli stessi ingressi relativi alla scheda. Queste poi configurazioni le vedremo all'interno della scelta. In questo caso input 13 e 14 fa sempre riferimento a input 1 e 2 come vediamo, quindi possiamo chiamarli mic 1 e mic 2. Infatti il primo ingresso è mic 1 e 2. Ora chiaramente questa configurazione la ritroveremo qui all'ingresso del canale facendo applica. Potremmo quindi entrare sia con l'ingresso stereo 1 e 2 sia con l'ingresso mono 1 o 2. Lo stesso sistema si applica anche sugli output della scheda. Quindi andiamo sugli output configuriamo tutti gli ingressi output della scheda. Il main audition potremmo mantenerlo su 1 e 2 per poter avere ad esempio in studio un ascolto dedicato soltanto alle uscite 1 e 2 oppure scegliere delle uscite adat o lo speed if per poter avere un ascolto nostro separato come main audition. Ma possiamo inviare la traccia che sta suonando anche alle altre uscite della scheda. Per fare questo o clicchiamo sull'uscita direttamente del canale e scegliamo line 3 4 5 6 7 8 eccetera oppure nel caso in cui volessimo inviare questa traccia quindi il segnale di questa traccia a più uscite contemporaneamente della scheda audio dovremo aggiungere dei bass. Aggiungiamo ad esempio 4 bass e ogni uscita bass avrà appunto le uscite separate della scheda quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 nel caso in cui volessimo inviare ad esempio la traccia bass la traccia 1 quindi la base direttamente al bass 1 ecco che la traccia va in 1 va anche nel main out ma nel caso in cui volessimo inviarla anche all'uscita 3 4 che magari va al batterista aggiungiamo un send su 3 4 e abbiamo così la stessa uscita audio che si raddoppia sui diversi bass. Questo ora adesso se noi consideriamo questo qualora volessimo poi anche lavorare sulle uscite separate quindi 3 4 1 2 5 6 ad esempio con differenti equalizzazioni differenti gain possiamo farlo direttamente nei bass questi diventano quindi dei bass dedicate alle uscite separate della scheda audio qualora invece volessimo mandare direttamente la base sulle uscite separate rimuoviamo i bass e sempre all'interno dei send troviamo le uscite fisiche della scheda che abbiamo impostato nella use setup quindi main 1 e 2 3 4 5 6 e 7 8 in questo caso la base adesso va su tutte le uscite della scheda per vedere il risultato di quello che stiamo facendo andiamo su outputs e vedremo che ora le uscite fisiche della scheda stanno suonando la base queste uscite sono in realtà la replica esatta di ciò che accade nell'uscita master quindi se noi abbiamo il metronomo ad esempio impostato qui sull'uscita master e non vogliamo ascoltarlo noi personalmente ma vogliamo ascoltarlo soltanto in relazione all'uscita 5 6 per esempio che è quella che andrà al nostro batterista attiviamo il metronomo direttamente sul bass della batteria qui abbiamo poi a disposizione il volume del suo metronomo quindi possiamo sceglierlo in maniera abbastanza semplice e veloce l'alternativa quella classica è quella di non usare il metronomo in play di studio one ma creare una traccia metronomo dall'opzione metronomo quindi andiamo su quindi clicchiamo su impostazioni del metronomo facciamo render e verrà automaticamente tra la start e l'end della song creata una traccia di metronomo pronta per poter essere utilizzata ed inviata infatti si chiama traccia click come vediamo ed inviata anch'essa alle differenti uscite in questo modo possiamo avere una traccia diversa per ogni uscita oppure più click quindi più tracce diverse di click da inviare alle diverse uscite della scheda audio utilissimo magari perché il batterista vorrà un click molto simile al cowbell o il chitarrista vorrà quello più simile appunto alla propria do che potrebbe essere logic o studio one quindi come vediamo il mixer di studio one è in realtà il mixer delle schede audio presonus ed è gestibile direttamente dalle song di studio one verrà salvato come song quindi è semplice anche da richiamare e può addirittura essere utilizzato con scene mixer diverse perché studio one 5 appunto ci permette di lavorare con delle scene mixer molto molto particolari ovviamente essendo in live possiamo utilizzare tutti i plugin di studio one in zero latency monitor quindi senza alcuna latenza oppure tutti i plugin di terze parti che lavorano con una latenza al di sotto dei 3 millisecondi spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito pro audio learning punto com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto